E si è conclusa la Roma 24H, l'unica 24 ore su strada in Italia disputata all'interno di un autodromo internazionale, quello di Vallelunga, con le stesse formule delle più grandi 24 ore automobilistiche del mondo. Ciclisti solitari e a squadra si sono sfidati fino all'ultimo minuto per vedere chi compiva più chilometri in un giorno intero. Alla manifestazione hanno preso parte non solo i ciclisti più esperti, ma anche molti principianti. Per la prima volta è presente anche un team experience formato da grandi campioni come Mario Cipollini, Andrea Tafi e Giovanni Visconti. 753 il numero di partecipanti quest'anno per omaggiare l'anno di nascita della capitale. L'evento è nato dal sodalizio professionale tra Emiliano Cantagallo, volto noto del cicloturismo nazionale, e Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1 e ciclista appassionato. Ora una breve pausa, poi torniamo.